Ti scrivo da una camera, nella semoscurità, da cui posso commuovermi di nascosto al mondo, al quale ormai mi sento estranea nel profondo, l'immenso e il suo contrario, sono luoghi del mio cuore, e se ti ora quel mare, da cui mi lascio trasportare, sempre, 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 quasi fino a diventare, sempre, solo amore, essere amore, questo buio a cui non ci si abito mai, questa luce mio anima, che ancora sprende sempre, sempre, fino a farmi diventare niente, e fino a farmi diventare niente. Questa luce mio anima, che nessuno può comprendere, all'infuori, all'infuori di te. All'infuori di te. Sempre, Lisa! Eccolo qua, il cd d'esordio, che si chiama proprio come te, ovvero, Lisa. Lisa! Ecco qua. Alla fine... Ditelo, ditelo, ditelo! Alla fine, invece di cascare a febbraio, stavo per cascare adesso. Invece non sei caduta, meno male. A proposito di febbraio, vedo che hai bruciato le tappe, seconda alle nuove proposte, e poi terza tra i campioni. Beh, brava, hai bruciato letteralmente le tappe. Qual è, e vedo che anche molti fans, qual è il ricordo più bello di questo festival? Beh, tra i tanti ricordi che porterò dentro il mio cuore, penso ci sia uno bellissimo, importante, che è stato quando, praticamente, mi hanno dato la bellissima notizia che era arrivata, a seconda tra le nuove proposte, e nello stesso tempo stavo guardando Celine Dion, che si stava esibendo, e lei, mentre stavo uscendo fuori, mi ha abbracciato e mi ha fatto i complimenti. E penso che sia una di quelle cose che non capitano spesso, che chissà quando mi ricapiteranno. Ti ricapiteranno, ti ricapiteranno, ti ricapiteranno, vieni con me Elisa, andiamo al grande jukebox a scegliere la canzone dal passato e la storia di Sanremo. Quale canzone hai scelto? Adesso lo vediamo, magicamente arriverà la copertina, vediamo un po'. Ah, guarda, guarda. Tiziana Rivale, 1983, Sarà quel che sarà. Una canzone molto bella, da una bravissima interprete, qualche altra nota del 1983, fu l'anno di Flashdance, l'anno di Thriller di Michael Jackson, che rimane uno dei CD degli album più venduti nel mondo, e a Sanremo, invece, Vacanze Romane, che vinse, Vita Spericolata, no, Vacanze Romane non mi ricordo se vinse, comunque, Vacanze Romane, Vita Spericolata e l'italiano di Toto Cotugno. Stasera, Tiziana Rivale non c'è, ma c'è Lisa, che canterà appunto, Sarà quel che sarà. Lisa! Stasera, Tiziana Rivale non c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è, ma c'è. Stasera, Tiziana Rivale non c'è, ma 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 c che ci credi anche tu, una storia siamo noi, con i miei problemi e tuoi, che risolveremo e poi, sarà, sarà quel che sarà, del nostro amore che sarà, prendiamo oggi quel che dà, è quel che avanza, per domani basterà, del nostro amore che sarà, prendiamo oggi quel che dà, è quel che avanza, per domani basterà Grazie